Gli ho già detto di no. È qui solo per vederti. Il suo progetto non mi entusiasma, ok? Lui è un grande regista. Ascoltalo, non sei costretta ad accettare. È il migliore della sua generazione. Lo so, ho visto anch'io le sue ultime produzioni. Beh, se preferisci chiacchierare col sindaco Eric, ok? Fa pure. No, grazie. Ok. Ah, e ti dispiace se vado via per un po'? Devo vedermi con Bern. Bern? Il fotografo. Cerchiamo un posticino un po' più movimentato, qui a un mortorio. No, non c'è problema. Anch'io non resterò a lungo. Divertiti.